e vorrei parlare dell'internet a parte che comunque il giorno d'oggi io non mi meraviglio più di niente però voglio dire una cosa allora io c'ho praticamente come voi sapete il mio sito ufficiale no un stallone italiano e poco parole niente c'è stata certa gente gente poi donne mi mandano delle foto suzze con la mutanda spostata che si vede alla topa cioè senza le decisioni le foto a cosci larghi ma che cazzo mi prega a me che voi mi mandate queste foto io dico solo una cosa no a parte il fatto che come vi dico e vi ripeto lo dico a voi donne che è dell'opera in mezzo che ha di meno io sono stallone italiano e vi dico solo una cosa a me non mi frega un cazzo che voi mi mandate queste foto che la mutanda spostata che si vede a topa e al culo a tetto ma che voi pensate voi donne che secondo voi io so come come l'uomo di oggi che sono morto di figa non vi dico solo una cosa io sono una persona seria quindi se volevo incontrare non è un problema se incontravo se volevo andare a piare caffè andiamo a piare il caffè volevo fare una passeggiata romantica una passeggiata romantica volete andare in giro per roma c'è problema mi volete incontrare tranquillamente pure per fare due chiacchiere c'è problema però vi dico solo una cosa io ve lo dico e ve lo ripeto insomma malato di figa capito non mi mandate queste foto da cazzo e poi a maggior ragione mi mandate queste foto e quando le scrivo manco rispondete e tra le tante cose non so neanche se siete voi c'è che a me che cazzo mi rappresentano io ho detto se volevo incontrare allora aveteci le palle eh siate donne mi contattate se sentivo non c'è problema però non mi mandate queste foto perché tanto a me a fin fine non è che dico ah quella mi mandata la tua nuda mi mandate le tette il culo cioè a me mi frega proprio un cazzo lo dico chiaramente io so per la realtà no per la finzione e per la virtualità capito vabbè io adesso te saluto comunque sentito bene sto massaggio perché mi avete rotto abbastanza li coglioni a mandare a me queste foto da merda capito insomma malato come l'articolo ci vediamo alla prossima da un stallone italiano ciao